In questa puntata vediamo come utilizzare SharkUp nella versione Pro per ottimizzare la ripresa della luna per esempio. Questa operazione la facciamo su un file già realizzato diverso tempo fa sulla luna però va altrettanto bene con un filmato in tempo reale. Quindi per questo utilizzeremo non una fotocamera vera ma un simulatore di fotocamera in questo caso, proprio perché andremo a elaborare la luna, utilizzerò il simulatore fotocamera planetaria. Nella funzione Immagine, Controlli di prova, nel pulsante Cerca, selezionerò la cartella e il file .ser contenente il video che ripresi della luna. Quindi questa è la nostra cartella, questo è il file .ser che lo apro e quindi a questo punto SharkUp esegue continuamente, quindi legge e visualizza tutti i fotogrammi del video che ho selezionato continuamente. Quindi quando arriva alla fine ricomincia. Come vediamo sono circa un centinaio di fotogrammi. Quindi qua alla fine arriva intorno ai 110 fotogrammi. L'immagine è buona ma non è contrastata e necessita di un'elaborazione. Questa elaborazione normalmente viene fatta con un programma esterno, tipo autostackert e poi ancora di più migliorata con dei wavelet, con altri programmi. Però questa elaborazione la possiamo fare direttamente con SharkUp, anche con video già fatti o con video in diretta. Dipende dal tipo di camera che utilizziamo, se è una camera vera o una camera virtuale. In questo caso è una camera virtuale e utilizziamo un video già salvato sul disco. Per fare questo abbiamo utilizzato per il Deep Sky la funzione Livestack, mentre per i pianeti, quindi Luna, Giove, Saturno, Marte, eccetera, utilizziamo il Livestack planetario, che è questo. Come vediamo già quasi dopo pochi istanti, mettiamo in pausa il sistema, già dopo pochi istanti vediamo che l'immagine della luna è diventata molto più contrastata, molto più nitida e incisa. Qui sulla destra SharkUp continua a visualizzare uno dopo l'altro i fotogrammi presenti nel file e qui vediamo alcuni comandi molto comodi da utilizzare. Innanzitutto possiamo impostare qual è il numero massimo di fotogrammi da elaborare. Qui è impostato al massimo che è oltre 8000. Qui ne abbiamo solo 100, quindi in realtà ne userà solamente 100. Ci fa vedere in questo momento qual è la lunghezza dello stack che ha caricato, quindi ne ha caricati 54 immagini, e qual è la proporzione di immagini caricate in funzione dei filtri che abbiamo impostato, che sono in questa seconda linguetta. Nel Frame Filtering vediamo che mentre scorre il filmato, vediamo che la qualità delle immagini passa da alta, media, bassa, alta, media, molto bassa, fa schifo, media, bella, buona, molto bella, buona, fa schifo, buona, buona, eccetera. E qui possiamo impostare qual è la percentuale dei fotogrammi che vogliamo utilizzare nello stack. Per esempio, qui è il 50%. Posso fare anche altre funzioni, tipo il timelapse, se stiamo riprendendo il sole, per esempio, delle protuberanze, con il timelapse possiamo fare questa operazione su una protuberanza creando un video di timelapse. In questo caso ne faremo solamente una ripresa con i fotogrammi sommati dal nuovo. Nella stabilizzazione e allineamento possiamo indicare di effettuare la stabilizzazione sulla superficie o sull'intero pianeta. Se il pianeta è piccolo, come Giove, Marte, faremo il full disk. Nel caso della luna o del sole utilizzeremo surface, quindi la superficie. E nello stacking mode utilizziamo o un singolo punto o molti punti. Quindi possiamo selezionare più punti, indicare quanti punti vogliamo utilizzare oppure andare nella versione più semplice su un singolo punto. Possiamo riallineare i colori se l'immagine ha colori, quindi se il blu e il verde non sono allineati possiamo farlo. E possiamo poi elaborare. Adesso ritorniamo nello sharpening normale e vediamo che abbiamo la possibilità di aumentare o diminuire con dei cursori la diminuzione del rumore, una diminuzione fine, aumentare la luminosità e la gamma dell'immagine. Adesso noi facciamo un reset stack, quindi vedremo che l'immagine tornerà più opaca e meno contrastata. Eccola qua. Però immediatamente, già dopo 10-15 immagini che vengono sommate, già l'immagine è buona. Se noi togliamo sia il de-noise che il fine, facciamo un reset, vediamo che non aumenta di molto l'immagine, la qualità. Molto lentamente sta migliorando, perché sta sommando un centinaio di fogliari. Utilizzando il de-noise, noi possiamo anche esagerare portandolo verso destra e quindi vedremo che l'immagine della luna diventerà eccessivamente contrastata. Rovineremo l'immagine, avremo delle parti sovraesposte. e questo avviene poi molto rapidamente, anche facendo un reset istantaneamente, già dopo 10 immagini viene rovinato. Quindi l'importante è non esagerare qua, arrivare a un punto medio in cui sia possibile, sommando diverse decine, centinaia o migliaia di immagini, ottenere una buona immagine finale, e attendere un momento. Quindi ormai noi abbiamo 100 fotogrammi, quindi è inutile arrivare a 5000, tanto quelle sono le immagini. Possiamo aumentare un po' la parte fine e ottenere queste immagini. A questo punto possiamo salvare l'immagine in formato PNG o in formato Tiffa. Possiamo, se chiudiamo invece senza salvare, non è successo niente, quindi non abbiamo scritto niente sul disco e tutto il lavoro fatto è andato perduto. Adesso riapriamo il live stack planetario, che è questa iconcina di Giove, e quindi vediamo che già dopo pochi secondi l'immagine è pronta. A questo punto posso fare, salvarlo come PNG, quindi aspetto di arrivare a 100, controllo il frame filtering, e quindi posso controllare come è il signa in questo momento. Cosa importante è questa della stabilizzazione, quindi attivare la stabilizzazione su un punto o su più punti, in maniera tale da ottimizzare queste immagini. Basta, a questo punto ne facciamo salva come vedi in PNG, quindi esattamente così come l'immagine viene salvata. Ecco qua, quindi l'immagine viene salvata nella cartella di destinazione che avevamo predisposto nell'impostazione file setting. Questo è il nostro file, che assolidiamo, e questa è la nostra luna, quindi possiamo ingrandire l'immagine, eccola qua, già quasi fatta, ed è notevolmente migliorata rispetto all'immagine generata dal file set. Eccolo qua. Va bene, spero vi sia piaciuto, e vi auguro buon divertimento. Grazie. Grazie.